Il meteo offerto da Centro Revisioni Florio Calandra Benvenuti al meteo di Filrus TV Vediamo insieme le previsioni di giovedì 27 maggio L'alta pressione garantisce sempre tempo assolato su tutta la regione Sul litorale tirrenico, ionico, meridionale e zone interne Cieli sereni per l'intera giornata Sull'Appennino, giornata poco nuvolosa Con qualche nube maggiore nel pomeriggio Venti deboli, basso tirreno, canale e mare di Sicilia mossi Vediamo adesso le temperature Palermo 24-16 Trapani 23-14 Agrigento 22-13 Enna 21-13 Caltanissetta 27-9 Ragusa 26-11 Siracusa 25-11 Catania 26-12 Messina 21-14 Grazie, appuntamento al meteo di domani